Come è stato un'ottima partita? Ci si aspettava da un Siena che magari veniva da tre pareggi, anche se da continuità, però magari una continuità si danno con le vittorie. La vittoria è stata importante ed è arrivata sotto tutti i punti di vista. Io penso che sia una squadra con ottime qualità, che lavora bene durante la settimana e penso che sarebbe anomalo trovare una squadra già pronta al 100% alla sesta giornata di campionato. Perché parliamo di fine settembre? Il campionato è lunghissimo, noi vorremmo fare un percorso per arrivare al top tra un pochino. Nel senso, abbiamo tanti margini di miglioramento, però il nostro punto di arrivo e poi deve essere un punto di partenza sono i 50 punti. Questi 50 punti vengono con tanto sacrificio, speriamo che vengono prima possibile per poi guardare in alto se c'è la possibilità. Sì, ho completato il percorso di riabilitazione, di reintegro in gruppo. Ora sta a me dimostrare, ripeto, di prendere il prima possibile la condizione atletica. Perché prima che venissi qui a Siena avevo fatto 22 partite su 22 e avevo un certo tipo di condizione. Ora, bene o male, nei primi quattro mesi di Siena, di Serie A, ho avuto solamente un'occasione. Per via di, inizialmente, Matteo che andava, Rubin che andava benissimo. E poi di alcuni problemi fisici che poi si sono prolungati fino alla partita con Napoli. E poi c'è avuto il definitivo distaccamento del tendine dall'osso. Quindi dovrei trovare continuità e cercare la condizione migliore in più breve tempo possibile. Sì, quest'anno sì, ho visto parecchio equilibrio. Tanto equilibrio che poi si è visto, si sposta da una parte o dall'altra in pochissimo tempo. Perché potevamo magari soffrire, quando era sabato, abbiamo fatto il gol all'ultimo. Quindi è un campionato bello. Secondo me questo è un campionato bello, lungo. Speriamo di raccogliere il massimo partita dopo partita. Un'ottima squadra perché loro hanno fatto degli acquisti mirati, c'è gente con qualità, gamba. Dovremmo stare attenti anche perché lì a Cesena, oltre ad essere comunque un bello stadio, è uno stadio abbastanza caldo, nel senso che i tifosi sono molto calorosi e si fanno sentire. Sicuramente troviamo una squadra forte per la categoria, perché rientra in quelle 6-6 squadre che possono lottare per un posto di play-off e promozione. Quindi dobbiamo andare lì da squadra, da Siena, compatti, e cercare di portare a casa il massimo che possiamo. Grazie a tutti.